Vogliosi di cominciare? Devo dire che c'è una bella atmosfera, un po' soffuso oggi con le luci così, che è un po' romantico, però siamo tutti vogliosi di cominciare. Sì, dobbiamo iniziare a lavorare da subito per noi, pensando a noi. Devo dire che se c'è un po' di problemi sono più abituato, perché è la mia carriera e sarà una cosa lunga e difficile, ma spero anche con molte soddisfazioni. Con il sorriso, con la voglia di fare e con le motivazioni penso alle stelle.